ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da oggi ci sarà il nostro con tutto il tutorial momento sponsor dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video dove potete andare su questo sito www.eneba.com slash it dove potete comprare le vostre steam key oppure la playstation key, le playstation card, i boni amazon i fortnite vbugs, i fifa points oppure anche i mesi di spotify l'abbonamento a netflix oppure se volete comprare qualsiasi gioco ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi come questo doom eternal ragazzi ha 14 euro e 10-15 euro vi comprate il gioco con paypal che è un ottimo acquisto e vi arriva tramite email la vostra chiave in digitale dove potete riscattare su sim che poi oltre a questo ragazzi ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso ci sono anche altri giochi come l'fc25 dove potete riscattarlo anche su playstation store ve lo comprate tramite il sito di Eneba ragazzi e supportate me e il canale e niente ora vi lascio al video ciao a tutti belli e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di PlanetCraft oggi andiamo a provare questo vaso di fiori posiziono un seme al suo interno per far crescere i fiori all'interno magnesio, cobalto e fertilizzante io il fertilizzante ce lo dovrei avere se non erro l'avevo trovato infatti fertilizzante eccolo qua fertilizzante cobalto e magnesio cobalto dovrei andare a prendere e magnesio pure mannaia, mannaia e andiamo a vedere questo vaso di fiori e andiamo a vedere questo vaso di fiori ah va piazzato all'interno mettiamolo qua di amma te andiamo a prendere quattrocento per cento bello bello questo vaso di fiori guarda com'è bello bellissimo mi piace un sacco questo vaso di fiori il fertilizzante come si faceva nel biolaboratorio nuovo progetto ricevuto veicolo aumento inventario T1 è qua? si ah ah ok e io questo non le ho sbloccate ancora andiamo a vedere il quello che abbiamo sbloccato adesso aia allora veicolo rover aumento tutto accompagnamento T1 superlega sicilio e ridio superlega sicilio e ridio sicilio superlega e ridio la superlega la devo fare cavolo no ce l'ho superlega eccola qua andiamo a farlo a momento equipaggiamento T1 eccolo qua ce lo andiamo a piazzare nel rover boom perché non me lo fa? ah già ce l'ho aumento equipaggiamento T1 aiaiaiai l'avevo già fatto mannaggia ossidiana aumento inventario T1 uffa ce l'avevo fatto uffa andamola a mettere qua mentre invece tubo ferro ghiaccio e magnesio c'è 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 il query là sopra che puoi andare a vedere l'acqua c'è l'acqua che il Qua sta ancora sciogliendo Però serve il ghiaccio Cosa che Non l'ho trovato Quello è ghiaccio No, titanio Titanio Cavolo, pure qua per Sicilio Ecco fatto Ghiaccio Poi c'è l'iridio Ghiaccio Così andiamo a fare il Veggetupo Devo venire qua con il rover a prendere Gli altri ghiaccio Cioè gli altri ghiaccio Grazie a tutti. Va all'interno della struttura, quindi li mettiamo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Così aumentiamo l'ossigeno. Serve un altro magnesio. Eccolo qua. Mi serve un altro ferro. Che andiamo a prendere a casa. Isolfo alluminio, titano e magnesio. Perro. Perro. Ok, così l'indice di terraformazione, l'ossigeno sale di parecchio, visto che adesso abbiamo molto più... molto più ossigeno. Molto più ossigeno, fammi andare a vedere al monitor. Infatti l'ossigeno sta salendo, sta salendo, vedete? Quindi siamo a buon punto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.